La sanità continua a essere anche sotto estate un argomento caldo, il patto siglato con la regione dal comune di Fano, come lo considera, che cosa è il quadro che secondo lei si prospetterà prossimamente? Noi non concordiamo con questo accordo, purtroppo i cittadini di Fano e non solo, tutti quelli che hanno l'ospedale di Fano come punto di riferimento si accorgeranno dopo le prossime elezioni amministrative di quale sarà la fine dell'ospedale di Fano. Io vengo ad esempio dalla città di Pergola e ho già sperimentato il modo di agire di Ceriscioli e compagni, grandi promesse per poi smantellare come sta accadendo nella realtà l'ospedale e poi dopo le amministrative ci sarà purtroppo la verità. C'è un accordo sotto banco di tanti sindaci che purtroppo agiscono in nome e nell'interesse del proprio partito e non dei cittadini e anche per questo ad esempio è accaduto per capi l'episodio per cui la conferenza dei sindaci di area vasta è stata posticipata proprio per dare la possibilità a Ceriscioli e alla sua giunta regionale di fare quegli accordi sotto banco che i cittadini non conoscono ma che porteranno purtroppo allo smantellamento della sanità non solamente a Fano ma anche a Urbino ma anche a Pergola ossia è ormai chiaro l'obiettivo della regione quello di smantellare la sanità per realizzare questo fantomatico ospedale unico e lasciando ormai delle praterie agli interessi della sanità privata. La posizione di Fratelli d'Italia è quella di sempre. Con massima coerenza noi appoggiamo i sindaci del patto di piagge per un sistema, una rete ospedaliera policentrica che garantisca lo stesso diritto alla salute ai cittadini di Fano come quelli di Pian di Meleto, come quelli di Pergola, di Fossombrone e di Cagli passando magari anche per Sant'Angelo, Invado e d'Urbino. Questa è la sanità che noi vogliamo.